Ciao a tutti, oggi vi mostriamo alcuni set di specili. Si tratta di utensili in acciaio inox di alta qualità. Possono essere utili nella costruzione di circuiti in elettronica, lavorazione di cere e paste modellabili, nella gioielleria, nel modellismo e in particolare per tutti i lavori manuali. Qui in particolare stiamo vedendo un set molto completo. Sono 19 pezzi, quasi tutti questi strumenti hanno una doppia testa, quindi da una parte una forma e dall'altra una diversa. Come potete vedere, a punta, a spatola, con la punta uncinata, piegata, curvata. Ognuno ha un utilizzo diverso e avere una così ampia scelta può essere utile soprattutto quando si fanno dei lavori. In particolare vengono usati anche nel restauro. Vediamo che soprattutto quelli che hanno una punta molto fine sono anche incappucciati con dei gommini, proprio per evitare di farsi male. Qui vediamo tutto il set completo nel suo astuccio. Questo invece è un set di spatole. Queste spatole hanno dimensioni diverse, tutte però sono piane. Questo invece è un set di specili di tutti a punta. Molto precisa, possono essere anche affilati e sterilizzati. Addirittura utilizzati per i denti degli animali, per togliere il tartaro e i denti dei cani, ad esempio. Grazie a tutti. Ed ecco qui il set completo nel suo astuccio. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo video.